Vogliamo portarvi sotto le celesti mura di Babilonia, che era una città circondata da delle mura possenti rivestite da una ceramica azzurra. I tedeschi, se avrete modo di andare a Berlino al Pergamo Museum, troverete una riproduzione con le mattonelle originali in scala ridotta. Il viale d'accesso che portava alla città e alla residenza del re era largo 30 metri e lungo 200. Aveva il compito, questa magnificenza, di intimorire gli ospiti e i visitatori, in modo che arrivassero in una condizione di sudditanza di fronte al sovrano. Il canto, la canzone che tra poco ascolterete, è tratta dal Nabucco di Giuseppe Verdi, che l'ha scritta pensando agli ebrei esuli a Babilonia, ma collegandosi agli italiani esuli e in difficoltà qui in Italia. Canta il coro Fenix in Canto, che è qui davanti a noi, dirige il corpo bandistico di Isola Vicentina, il maestro Matteo Berlaffa. Gesù c'è quanto dov'è? Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.